Un aereo fa saltare il banco alla casa del grande fratello. Questa mattina un velivolo ha sorvolato la casa con un messaggio di supporto per Javier Martinez, ex fiamma di Shaila Gatta. Il clima si è surriscaldato quando Martinez ha attaccato la gatta e Lorenzo Spolverato è intervenuto furiosamente. I due hanno iniziato a litigare rischiando di far degenerare la situazione. Un secondo aereo ha poi sorvolato la casa con uno striscione ancora più esplicito a favore di Martinez. La reazione entusiasta del pallavolista ha provocato ulteriori tensioni con la gatta che ha cercato di ringraziare i fan per il messaggio. Martinez ha chiesto di cancellare un hashtag che lo coinvolgeva scatenando la reazione di Spolverato. La tensione è salita alle stelle con Spolverato che ha rimproverato la gatta per la sua reazione. La ballerina napoletana ha cercato di giustificarsi ma la polemica è rimasta aperta. L'atmosfera nella casa del grande fratello è tesa con tutti i concorrenti coinvolti in una serie di litigi e polemiche. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.